Amici dello sportello del cittadino, siamo a Lama Taranto, Contrada San Domenico via San Domenico. Ho qui al mio fianco un abitante della zona, autore di tante battaglie relativamente alle problematiche della zona. Parliamo di igiene, igiene urbana e parliamo di sicurezza stradale, di viabilità. Torniamo qui a distanza di anni, ma i problemi purtroppo sono irrisolti. E allora Nozzo ci dica tutto. Sì dottor Avate, io l'ho chiamata, l'ho invitata a venire sul posto ancora una volta perché lei come ogni sempre ci ha dato una grande mano nel passato. Abbiamo ottenuto l'illuminazione, abbiamo ottenuto tanti tanti problemi risolti, però non riusciamo a debellare ciò che è il problema della sicurezza stradale qui a San Domenico e c'è che soprattutto l'igiene, come ha detto l'epoca, anzi l'igiene sulla zona. Una discarica a cielo aperto? Una discarica a cielo aperto. Stamattina, viva Dio, finalmente qualcuno si è mosso. Ho visto un paio di operatori ecologici che pulivano su Via Prima dove fra poco le farò vedere che è una situazione oscena. Qui ci troviamo su Via San Domenico e alle nostre spalle, se l'operatore poi potrà inquadrare, vediamo ancora una discarica a cielo aperto, una discarica a cielo aperto. Ci sono anche le mosche proprio che ci tempestano. C'è una conseguenza, dove c'è immondizia c'è da mangiare, quindi le mosche, le zanzare soprattutto e a proposito poi ne possiamo anche parlare, non c'è neanche un momento di disinfestazione sulla zona da parte dell'amministrazione comunale. Ma il problema grosso, davvero attinente alla sicurezza e alla vita, è quello della viabilità. Una strada a doppio senso, fatta di gomiti, di curve, che è pericolosissima. Andrebbe evidentemente cambiato anche il senso di marcia, fatti controlli. C'è il problema poi del transito dei mezzi pesanti, dei camion, cosa vietata? Ho accentrato qual è il vero tema di questa mattina, il transito dei mezzi pesanti. Non ce la facciamo più, Gregio Dottor Abate, mi rivolgo soprattutto, comandante Madichecchia, l'ho pregata, l'ho supplicata, fateci fare alcuni controlli sulla zona. Ne ho parlato con i vigili. Una mattina mi rispondono che abbiamo un mercato, l'altra mattina mi rispondono che comunque siamo pochi di organico. Il problema adesso si sta facendo veramente inaltante. Noi vogliamo risolvere questo problema. I camion qui sopra a San Domenico non dovrebbero passare. Lo sa benissimo perché lei ha disposto la segnaletica su tutti gli angoli di San Domenico, ma manca un momento di sanzionatori. Non ci sono sanzioni sulla zona. Da quando lei ha messo i segnali, caro egregio comandante, non c'è un giorno sanzionabile. Lei lo sa che mi sono rivolto alla provincia, mi sono rivolto ai vigili della provincia, dove hanno fatto il loro dovere per un po' di tempo. Adesso non c'è nessuno. Qui l'H24, i camion la fanno da padrone. Non aspettiamo il momento funebre. Per concludere, un'ultima battuta. Dicevamo una strada in cui c'è il doppio senso di marcia. È davvero pericoloso perché la carreggiata si restringe soprattutto in prossimità delle curve. È il rischio di sconto, anzi la frequenza con cui avvengono gli incidenti è preoccupante. Certamente. Se ci sposiamo leggermente qui a 50 metri, le farò vedere una situazione di una strada dove passiamo necessariamente, dobbiamo transitarla, dico necessariamente perché ci abitiamo sulla zona. Adesso le faccio vedere una strada scoscesa dove c'è, perché io che vado con la moto o tanti come me che vanno sulla moto, qualche giorno ci lasciamo la pelle. Possiamo rallentare tutto quanto, però ci troviamo in una condizione tanto e tale che qualche giorno ci faremo del mare. Poi io mi considero parte civile, vi sto avvisando, amministrazione comunale, mi considero con il Comitato di San Domenico parte civile perché non è possibile andare avanti sin ed io con questa situazione. Grazie a tutti.